Oggi ha pagato, la nostra è stata una decisione di Pasquali di non intervenire sul mercato proprio perché abbiamo un gruppo nostro unito, coeso, che da molto tempo gioca insieme e quindi per noi non era giusto intervenire, perché per noi, ripeto, partiamo da un gruppo di amici che giochiamo insieme da tanti anni ed era giusto continuare così e spero fino alla fine di continuare così.